Messina è una città situata sulla costa nord-orientale della Sicilia, in Italia. È la terza città più grande dell'isola, dopo Palermo e Catania. Con una posizione strategica nello stretto di Messina, la città ha un ricco patrimonio storico e culturale. Una delle attrazioni principali di Messina è la sua architettura, che mescola stili diversi a causa delle numerose influenze culturali che la città ha subito nel corso dei secoli. Il Duomo di Messina, situato nella piazza principale, è una delle sue principali attrazioni. È un magnifico esempio di architettura normanna con influenze gotiche e barocche. La città è anche nota per il suo orologio astronomico, situato sulla Torre del Duomo. Questo orologio del XVI secolo è uno dei più grandi e complessi del mondo e presenta una fascinante combinazione di meccanica, simboli e statue. Proprio al Duomo termina la maggiore festa della città di Messina. La festa di Maria Santissima assunta a Messina è una delle celebrazioni religiose più importanti della città se non la più importante. Si tiene il 15 agosto di ogni anno per commemorare l'assunzione di Maria Vergine, quando secondo la tradizione cattolica, assunta in cielo con il suo corpo e la sua anima. Grazie. Grazie.